Una giornata molto importante che tocca delle tematiche fondamentali per il comparto agricolo che è quella della presenza di alcuni parassiti sul nostro territorio, tra cui anche la Val di Noni. Stiamo infatti parlando della cimice, la cimice asiatica. La FEM, l'Università di Trento e i nostri tecnici da anni stanno monitorando la situazione, stanno studiando le diverse alternative, non soltanto con l'utilizzo chiaramente di prodotti fitosanitari, ma anche con altre strumentazioni che abbiano l'occhio chiaramente alla sostenibilità e all'ambiente. Quindi da parte della provincia il massimo supporto al mondo della ricerca e al mondo agricolo affinché vi sia una ricerca applicata che riesca a risolvere questa problematica.